Musica Ciao ragazzi e bentornati su Itinerari di Pesca Scusate per lo studio un po' confusionario ma stiamo per partire per il tour e c'è un po' di caos al giro Detto questo, quest'oggi un nuovo tutorial dedicato al carp fishing con una lenza con un finale un po' particolare Un finale che ci consentirà sempre di agganciare il nostro amico pesce Ma andiamolo subito a vedere Musica 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.